Il simbolo Lakota, echi celesti di un'antica civiltà, nel vasto tessuto della storia umana, dove ogni cultura ha tessuto il proprio filo unico. Il popolo Lakota ha inciso un simbolo indelebile nel cielo stellato del nostro patrimonio collettivo. Il simbolo Lakota, riconoscibile per la sua forma a clessidra o per i due triangoli connessi, uno capovolto sull'altro, è un faro di saggezza e spiritualità che risplende attraverso le nebbie del tempo. Questo simbolo, che ha radici profonde nelle pianure del Nord America, è un ponte tra il cielo e la terra, tra il divino e l'umano. Era una volta una mappa stellare, una guida per una tribù che vedeva il cielo come una tela su cui erano dipinti i racconti degli dei e degli antenati. Per il popolo Lakota, il cielo non era solo un ammasso di stelle, ma un racconto vivente, un libro di saggezza che poteva essere letto da chi aveva gli occhi per vedere. La storia del simbolo Lakota è intrecciata con la storia del popolo stesso. Originari delle grandi pianure del Nord America, i Lakota erano una tribù di nativi americani che vivevano in armonia con la terra. Erano nomadi, seguendo le stagioni e le migrazioni degli animali, e trovando significato e proposito nelle stelle sopra di loro. Il loro nome, Lakota, significa amici o alleati, e riflette la loro visione del mondo come un luogo di connessione e comunità. Il simbolo Lakota, noto anche come Capemni, rappresenta questa connessione. La sua forma a Clessidra, o forma X, è un riflesso del cielo e della terra, del sopra e del sotto. Per il Lakota, il triangolo rivolto verso l'alto rappresentava la terra, mentre il triangolo rivolto verso il basso rappresentava le stelle e il sole. Era un simbolo di equilibrio, di armonia tra il mondo fisico e quello spirituale. Ma il simbolo Lakota non era solo un simbolo astratto. Era una guida, una mappa. I Lakota creavano mappe della terra e delle costellazioni, usando la tradizione orale, i petroglifi e le stelle per segnare i loro luoghi sacri e le zone di caccia. Non avevano bisogno di griglie o coordinate, avevano il cielo. E il simbolo Lakota era al centro di tutto, un punto di riferimento, un faro. Nel corso del tempo, il simbolo Lakota ha assunto ulteriori significati e interpretazioni. Per alcuni, rappresentava la preghiera, un legame tra la terra e il cielo. Per altri, era un simbolo di protezione, un sigillo che proteggeva dal male. E per altri ancora, era un simbolo di identità, un segno di appartenenza a una tribù, a una cultura, a una storia. Oggi, il simbolo Lakota vive ancora. Mentre molte delle tradizioni ancestrali dei Lakota sono state perse o dimenticate, il simbolo rimane, un promemoria della saggezza e della spiritualità di un popolo antico. È un simbolo di resistenza, di resilienza, di connessione. E mentre guardiamo al cielo, possiamo ancora vedere il riflesso del simbolo Lakota nelle stelle, un eco di un'antica civiltà che ci chiama a ricordare, a riflettere e a riconnetterci con le nostre radici.